Salve a tutti, fan del gossip. È finalmente giunto il momento di svelare tutte le anticipazioni e le sorprese che ci aspettano nella nuova edizione di Amici 23. Stiamo per immergerci nel mondo del talent show più amato, con Maria De Filippi pronta a condurci in un'altra stagione emozionante. Preparatevi per un'avventura ricca di colpi di scena. Scopriamoli insieme ma prima iscriviti al canale e attiva la campanella. Una nuova classe di talenti nella prima puntata, come tradizione, vedremo la formazione della nuova classe di Amici, un mix straordinario di cantanti e ballerini pronti a stupirci. Ospiti di prestigio, Mondo TV ci ha anticipato alcuni dei volti noti che consegneranno le mitiche felpe ai giovani talenti. Dai vincitori della scorsa edizione a ospiti speciali come Kanyaman e Alessia Marcuzzi, La scelta dei professori saranno i professori a decidere chi avrà l'onore di varcare le porte della celebre scuola. Quest'anno, Anna Pettinelli si unisce al team di canto accanto a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, sostituendo Arisa. Conferma nell'Accademia di Ballo Alessandra Celentano, Emanuello e Raimondo Todaro, i professori di ballo della scorsa edizione, ritornano per guidare i giovani ballerini. Todaro, in particolare, supera le incertezze e continua il suo ruolo. Le esibizioni finali, la prima puntata di Amici è tradizionalmente dedicata alle audizioni finali, in cui i giovani talenti mostreranno il loro potenziale nel canto e nella danza. Gli ospiti illustri consegneranno le felpe, simbolo dell'accesso alla scuola di Amici. Ospiti di eccezione, Mattia Zenzola, vincitore della passata edizione, e Angelina Mango, vincitrice della categoria cantanti, saranno tra gli ospiti della serata. Non mancheranno volti famosi come il regista e attore Leonardo Piraccioni, e Alessia Marcuzzi. Non lasciatevi sfuggire l'inizio emozionante di Amici 23. Saremo qui per tenervi aggiornati su tutto ciò che riguarda il vostro talent show preferito. Lasciateci un commento per condividere le vostre aspettative e unitevi all'entusiasmo generale.